La ferritina è calcio italiano proprio perché ormai è un po' di anni che sei qua in Italia chiedo dove può arrivare secondo te questa squadra anche con il mercato che ha fatto quest'anno dove la collochi, anche che obiettivi ti hanno detto appunto di avere i momenti che ti hanno acquistato, grazie Qui sicuramente come ha detto una grande società, una grande squadra che anche negli anni scorsi hanno dimostrato di fare il benissimo e hanno giocato proprio il calcio che in Italia si vede molto poco Loro mi hanno preso, ero anzi ero contentissimo, mi sono messo anche un po' a piangere Questa è la mia prima squadra, una squadra più grande e voglio fare il meglio possibile Dopo dove mi vedo io, per adesso sono troppo contento che sto qua sono parte di un progetto grandissimo e darò non 100, anzi 120% di mettermi dentro, di mettermi a disposizione al mister Grazie Grazie Grazie